Tra Pozzuoli, Monte di Procida e Procida ci sono oltre 3.000 pazienti con l'attribuzione dello 0,48. Un'emergenza sanitaria senza precedenti, quella che vede coinvolta ormai da anni la regione Campania, la cui popolazione è costretta a vivere tristi peculiarità che non esistono in altre regioni. L'assenza di un registro tumori in una terra che ne avrebbe bisogno e più di altre che ne sono fornite vuol dire sottrarre ai cittadini l'unico reale strumento scientifico di monitoraggio, utile per sancire in essi tra l'incremento dei tumori e la persistenza in loco di fonti di inquinamento. Un iter amministrativo lungo e inconcludente, quello per la realizzazione del registro tumori. Una bocciatura iniziale, a causa di costi troppo elevati, seguita da un decreto legge varato dal governatore Caldoro, che mirava ad attivare comunque un registro tumori in attesa che fosse elaborata una nuova proposta. Ma ad oggi tale strumento ancora non ha visto realizzazione. Si cerca quindi, con ogni mezzo, un modo per velocizzare l'istituzione di questo fondamentale strumento di ricerca e conoscenza, tentando di delineare un quadro chiaro e coinciso della presenza di malattie tumorali in determinate aree. Il consigliere comunale dei Verdi del Comune di Pozzoli, Paolo Tozzi, ha sviluppato una propria linea di pensiero al riguardo, proponendo uno strumento tanto semplice quanto efficace. Io ho pensato che c'è una soluzione molto semplice, anche se qualcuno può dire generalista, però credo che questo faccia bene alla informazione, al far sapere a tutti i cittadini che c'è una possibilità di avere in tempo reale la possibilità di conoscere il numero dei pazienti, dei cittadini affetti da malattie tumorali su una certa area e in un certo distretto. Basterebbe che ogni distretto pubblicasse o comunque facesse sapere l'attribuzione dell'esenzione ticket 048, che è un'esenzione che viene assegnata a tutti i pazienti purtroppo che subiscono questo tipo di patologia ed è specifica, quindi numericamente c'è la possibilità di sapere, come dicevo, in tempo reale, il numero delle persone che sono affette da questa patologia. Partire quindi da un unico dato certo che permetta una maggiore informazione alla popolazione, che ormai da tempo brancola nel buio. Resta però da definire il modo in cui le patologie tumorali sono collegate all'inquinamento ambientale. Anche contrariamente a quello che dicono spesso gli addetti ai lavori, soprattutto gli ospedalieri che vedono dopo un certo periodo sfuggire il paziente perché prende altre strade ad esempio per farsi curare, quindi non avere la possibilità di monitorare numericamente la presenza, che sicuramente non è legata esclusivamente a quello che sta succedendo nei nostri territori, quindi l'inguinamento territoriale relativamente alla terra dei fuochi. Però si parte da un dato certo. Su questo dato poi le ASL potrebbero fare tanto di dare magari un sottocodice alla tipologia dello 048 in modo da restringere il campo dell'individuazione del tipo di tumore per organo per organo e poter avere il quadro esatto. Muoversi quindi a piccoli passi ma concreti che possono avvicinarci al raggiungimento di un tanto agognato traguardo.